I suoi esecutori, barbari, assassini, gente che l'anima certamente non ce l'ha. Allora sentite. Lui dice posso levarmi? Voglio farvi vedere come muro in italiano, ascoltiamo. La voce è anche chiara, neanche rotta da rivoluzione eppure sa che sta morendo. Gli hanno messo questo occhiefiacchi di coprire il volto, ha le mani legate, forse ammanettate o comunque legate con una corda. Gli assassini sono lì, lui continua a dire posso levarmi, posso guardare in faccia una volta e voglio farvi vedere come muore un italiano.